Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Il fiume Lambro dove è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo di Giovanna Pedretti e questa zona che è recintata ovviamente dai nastri dei carabinieri si è sotto osservazione perché qui è stata ritrovata anche la macchina e nella macchina ci sono stati i primi indizi di quello che è potuto succedere. Ovviamente parliamo di un caso di cronaca, nelle prime 48 ore ci hanno spiegato tutto può succedere, tutto può cambiare, non ci sono ancora delle dichiarazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine però questi sono i segni della macchina, della panda con cui Giovanna sarebbe arrivata qui e ti dicevo proprio all'interno della macchina dalle prime indiscrezioni che siamo riusciti ad avere sembra che ci fossero delle tracce di sangue perché, e questo poi è l'indizio principale che fa pensare al suicidio, pare che Giovanna avesse dei segni sui polsi delle ferite non particolarmente profonde ma abbastanza da lasciare appunto delle tracce di sangue in auto, quindi sarebbe venuta qui con la sua auto e poi si sarebbe avvicinata al fiume dopo alcune ore, dopo le avrebbero ritrovata proprio le forze dell'ordine. Ti dicevo, ci sono indagini in corso, indagini aperte che si muovono su due fronti, ci hanno spiegato, il primo è quello diciamo di internet, capire, ricostruire le minacce che aveva avuto, le critiche feroci che c'erano state sui social e dall'altro anche sui spostamenti degli ultimi 48 ore, con chi aveva parlato, se si era confidata con qualcuno. C'è un caso in famiglia di un suicidio, il fratello della signora Pedretti si era suicidato qualche anno fa e si vuole capire, si prova a capire se c'erano in qualche modo delle debolezze psicologiche che possano essere state la base di questo gesto del suicidio che comunque, ricordiamolo, è ancora tutto da confermare. Per ora quello che sappiamo è che la signora Pedretti è uscita dalla sua pizzeria, loro vivono, lei e suo marito vivono sopra la pizzeria, sopra l'esercizio commerciale che gestiscono insieme, è uscita alle 4 di notte dell'altra notte e poi di lei è stata ripresa dalle telecamere locali e poi di lei non c'è stato più traccia, tanto che il marito ne aveva denunciato la scomparsa e poi appunto il percorso che aveva fatto tristemente porta qui. Noi ora ci avviciniamo ovviamente al paese e cerchiamo di avere anche ulteriori informazioni dai carabinieri.